Sono Salvatore Morra candidato al comune di Fuorigrotta a Bagnoli, io sono uno dei giovani del movimento e quindi sostanzialmente voglio dire che noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare dobbiamo avere il coraggio di cambiare perché quando non si cambia rimane tutto come prima perciò quando andiamo lasciate la scelta giusta il 5 giugno, votate il Movimento 5 Stelle, grazie grazie di aver partecipato grazie